Allora, siamo qui allo spazio nuovo, c'è stato un incontro su Schiudere Soglie, con Barbara Mamone e Leonardo Coppo, che si occupano di respiro olotropico, respiro integrato. E siamo partiti dalla trans, da spiegare che cos'è la trans e come fare a superare le soglie dello stato ordinario di coscienza, aprirci e tornare indietro. Ha Leonardo Coppo, che è un fisico laureato a Pisa ed è un esperto di... scusate, sono stanca, di non respirazione della terra, di gas a effetto serra. Io adesso leggo un brano scritto da uno sciamano amazzonico, Dave Kopenawa, che dice La foresta è viva, può morire solo se i bianchi si ostinano a distruggerla. Se ci riescono, i fiumi scompariranno sotto la terra, il suolo diventerà friabile, gli alberi rinsecchiranno e le pietre si spaccheranno per il calore. La terra inaridita diventerà vuota e silenziosa. Gli spiriti xapiri, che scendevano dalle montagne per venire a giocare sui propri specchi, fuggiranno lontano. I loro padri, gli sciamani, non potranno più chiamarli e farli danzare per proteggerci. Non saranno in grado di respingere i fumi d'epidemia che ci divorano. Non riusciranno più a contenere gli esseri malefici che faranno volgere al caos la foresta. Allora moriremo gli uni dopo gli altri e così anche i bianchi. Tutti gli sciamani periranno. Quindi, se nessuno di loro sopravvive per trattenerlo, il cielo crollerà. Allora, la caduta del cielo è proprio l'esperienza che ho avuto quando sono entrata in SPDC, in regime di TSO, dopo un viaggio, un viaggio diciamo così nell'oltre, è andato male presso una setta. Mi puoi dire, Leonardo, come fare a guarire veramente? Allora, a questa domanda non so risponderti, francamente. Ma rispetto a quanto hai letto... Non personalmente, ma... Allora, rispetto a quanto hai letto dello sciamano, è molto bello, ma è un po' troppo pessimista. Nel senso che è vero che l'uomo bianco può fare un gran danno, ma se noi adottiamo un attimo il modello che questo pianeta tutto intero è un organismo vivente, perché tutto il pianeta, come abbiamo visto, respira, e quindi noi possiamo essere una parte, ma se è vero che è così, Gaia, cioè il pianeta vivente, e a un certo punto si scrollerà di dosso i parassidi, che già, ma non è che l'uomo bianco è capace di distruggere il mondo. No. E a Barbara volevo chiedere, a livello di musica, quanto possiamo indurre uno stato alterato di coscienza, valendoci della musica? Allora, credo un po' anche riprendendo insomma tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme questa sera, che effettivamente, essendo la musica uno dei pilastri fondamentali, che reggono proprio i dispositivi che permettono i passaggi da uno stato ordinario a uno stato non ordinario a stati non ordinari, il solo e semplice ascolto della musica produce, può produrre, proprio il passaggio ad altre dimensioni. E peraltro la musica è tra i principi cardine anche proprio degli interventi terapeutici, se pensiamo anche al dispositivo della musicoterapia, che è uno dei dispositivi di cui stasera non abbiamo parlato particolarmente, ma che ha a che fare proprio con la possibilità di andare a disconnettere o a creare diciamo delle vibrazioni all'interno di quello che abbiamo visto essere il cervello trino, che allora possono determinare l'ingresso in altri stati. La musica è ciò che anche Leo ci diceva produce vibrazioni a livello corporeo e quindi ci permette a livello di corpo e di mente di poter entrare in uno stato modificato o in uno, meglio dire, stato non ordinario di coscienza, per cui è proprio, come dire, uno dei pilastri, dei caposaldi, la musica, tant'è che anche rispetto al discorso delle culture che abbiamo fatto è proprio l'elemento che ritroviamo dappertutto. Se pensiamo anche, visto che tu hai preso e citato uno sciamano amazzonico, se prendiamo anche l'esperienza amazzonica anche lì l'esperienza è accompagnata dagli Icaros, cioè dai canti e dalla musica, per cui la voce, il canto, la musica, il ritmo sono necessariamente l'ingresso e la possibilità di entrare. Ma sì, i canti amazzonici sono importantissimi per entrare in contatto con gli spiriti, ma anche la Iawashka. mi chiedo, per veramente renderci conto noi occidentali di quanto siamo sconnessi, non è che dobbiamo riprendere il discorso di un uso mirato, medico dell'LSD? Beh, questo non lo so. Sicuramente dobbiamo iniziare ad avere cura e attenzione rispetto a quelli che sono dei dispositivi che ci permettano di assaporare quella che è la soglia di stati modificati di coscienza, ordinari e non ordinari. In contesti rituali e protetti qui in Occidente, questo sicuramente. poi se con l'uso di sostanze o meno, io personalmente preferisco senza uso di sostanze perché lì c'è un'alterazione che poi è difficile da integrare, per cui dei stati modificati di coscienza dove siamo per esempio con il respiro, per cui perché no avere più cura e più attenzione e non praticare di più il respiro integrato. Grazie, è stato molto così, ci ha aperto delle soglie, ci ha aperto dei mondi il vostro intervento e speriamo che ci siano delle code terapeutiche per tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.